Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui con la carriera di Natura e con l'Inter in questo episodio infrasettimanale, come vi avevo detto nello scorso episodio. Se per caso lo avete perso, andatevelo a recuperare, perché abbiamo giocato la semifinale di andata e semifinale di ritorno di Champions League contro lo Schalke 04. Quindi abbiamo giocato le due partite che ci danno l'accesso, nel caso di vittoria, ovviamente, alla finale di Champions League. Mi hanno scritto in molti ragazzi che non è arrivato il feed del video domenica mattina. Quindi vi invito ad andare a rivedere il video precedente. In ogni caso, oggi saluto 4 di voi che mi hanno scritto sui social network, link nei commenti. Saluto Vinci40, Nicolò Tiberi 04, Luca Marino 07 e Giordano Iori. Saluto anche tutti gli altri ragazzi che mi hanno sostenuto nello scorso episodio, con l'hashtag triplete, con l'hashtag forza inter, con l'hashtag sempre sul pezzo. Mi avete sostenuto in tantissimi interisti e non. E credo che questa carriera sia veramente una grandissima soddisfazione. Forse anche la più grande soddisfazione da quando faccio video su YouTube. Un sacco di persone che comunque mi sostengono qualunque cosa faccia, perché oltre agli interisti che mi sostengono ci sono anche persone che ti fanno altre squadre e che mi sostengono in ogni video, in ogni episodio di questa carriera. Ovviamente ragazzi, spero mi sosterrete anche nella prossima carriera che farò. Ti saranno tante sorprese, scopriremo tanti piccoli talenti e spero veramente che mi sosterrete sempre. Prima di andare a fare questo episodio, ragazzi, volevo parlarvi un attimo della gestione dei prossimi episodi di questa carriera, dei prossimi episodi finali di questa carriera allenatore. Allora, oggi facciamo tre partite di campionato. Come mi ha fatto notare un iscritto sono praticamente inutili, perché noi abbiamo già vinto il campionato, signori! Siamo campioni d'Italia per la seconda volta consecutiva, perché abbiamo 12 punti dalla Lazio, se ne perdessimo tutte e tre, la Lazio non ci recupererebbe in ogni caso. Però sarebbe bello magari vincerle tutte e tre, perché andare a 90 punti, finire il campionato con 90 punti non sarebbe male. In ogni caso, in questo episodio infrasettimanale andremo a giocarci queste tre partite di campionato. Nell'episodio di domenica prossima alle 10.30 ci sarà esclusivamente la finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Farò un episodio esclusivo dedicato alla finale di Champions League, facendo vedere praticamente tutta la partita, con pochissimi tagli, perché credo sia giusto fare così. Me l'avete consigliato in tanti, ma ci avevo già pensato. Mentre nell'episodio finale, quello che ci sarà ancora la prossima domenica, faremo un episodio dedicato alla finale di Coppa Italia contro la Lazio e sarà un episodio ancora più importante perché ci sarà la votazione per la nuova carriera. Quindi cosa fare con la nuova carriera di allenatore, che squadra prendere, in che campionato andare, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà praticamente l'impostazione per la nuova carriera. E poi più avanti farò anche il mondiale con la nostra Italia, però sarà una carriera totalmente a parte. E quindi ragazzi faremo così questi tre episodi finali. Oggi campionato, domenica prossima finale di Champions e domenica prossima ancora finale di Coppa Italia con l'impostazione della nuova carriera. Credo che sia la gestione migliore per questa carriera di allenatore che ha bisogno in questi episodi finali del suo tempo. In ogni caso, oggi ci andiamo a giocare queste tre partite contro la Fiorentina cercando di evitare infortuni gravi o robe del genere. Ce le andiamo a giocare tutte e tre comunque anche per far giocare chi ha potuto giocare meno. Quindi andiamo a fare un buon turnover. E quindi con la squadra delle riserve ci andiamo a giocare questo Inter Fiorentina che come ho già detto conta poco per il campionato ma che serve comunque a far crescere ancora qualche giocatore che secondo me meriterebbe di crescere e per far giocare chi ha giocato meno in questo campionato che ha avuto meno possibilità ma che comunque secondo me ha grande valore come Naki Williams come Kondogbia nelle ultime partite perché in realtà Kondogbia ha fatto il titolare per una stagione e mezzo poi con l'arrivo di Ozdakup avendo bisogno di qualcuno un po' più tecnico l'ha sostituito praticamente a Kondogbia. Comunque signori, forza Inter sempre sul pesto andiamo a finire in bellezza questo campionato. Attenzione poco al Kasser che può provare il tiro da fuori la palla arriva a Tielemans il tiro di Tielemans bella parte dei consigli poco al Kasser ragazzi che tra l'altro è arrivato a metà stagione se non sbaglio o a tutta l'inizio della stagione non me lo ricordo in ogni caso è il capo cannoniere dell'Inter con 10 gol sono molto contento delle sue prestazioni. Attenzione alla Fiorentina che passa in vantaggio con Riedermatos non ho la più parola idea di cosa sia successo sinceramente rivediamo un po' il calcio d'angolo di Borca Valero Murillo la rimette in mezzo boh, c'è capito un cazzo praticamente Nardi era morto boh 1-0 a Fiorentina con Riedermatos dopo 14 minuti Senna Marcos Alonso cambia tutto dall'altro lato dove c'è Bernardeschi Bernardeschi in mezzo per Borca Valero ancora Bernardeschi Tejes sempre in là sempre verso il calcio d'angolo non so perché fa qualche serba la palla per Griezmann il tiro di destra di Griezmann al volo diciamo così senza stopparla consigli la palla per caso mi è sembrato di capire per caso perché l'ha colpita tipo di faccia Griezmann oddio cosa ha fatto cosa ha fatto Antoine ma perché poi quel passaggio merdoso aveva fatto un numero pazzesco non so se era venuto per caso se ho cliccato qualcosa ancora più per caso ma aveva fatto una roba incredibile oh brutto movimento qui di Andreolli Riedermatos il tiro 2-0 devo dire raddoppio immeritato perché questo è il secondo tiro che dà la Fiorentina qua si muove malissimo Andreolli sinceramente una figura così non voglio farla Delufeu Delufeu il tiro di Delufeu da fuori consigli para il tiro sembrava potesse andare nell'angolino in realtà si è dimostrato centrale niente ragazzi questi come ripartono si fanno il buco di culo ilicic il tiro il tiro è andato fuori l'arbitro ha fischiato calcio di rigore rosso per Tejas mamma mia che brutta cosa sta succedendo che brutta roba Nardi contro Giuseppe Rossi va Giuseppe Rossi non so perché Nardi non l'abbia parata forse sono andato un po' in ritardo ed è 3-0 Fiorentina quando si fa turnover poi si rischia anche si rischia anche questa cosa però non è meritata sinceramente Griezmann fa viaggiare con Dogbia Suarez prende il pallone in una maniera incredibile cioè ha fatto una chiusura pazzesca attenzione a Giuseppe Rossi che se ne va il tiro di Giuseppe Rossi bella parata di Nardi bella palla per Deleufeu consiglia non ci posso credere gran parata di Cialanoglu per Deleufeu come al solito Cialanoglu il tiro non è vero raga no no non è vero non è vero non è vero finisce qua 0-3 brutta sconfitta in casa e sinceramente mi scuso mi scuso per quello che avete visto sinceramente perché non credevo che sarebbe andata così sinceramente non non volevo neanche che finisse così va bene il il turnover va bene la fine del campionato abbiamo già vinto però una figura così sinceramente non la voglio più fare mi scuso mi scuso per questo perché non dovevate neanche vederlo probabilmente ma in campo praticamente tutti i titolari per riprenderci per riprenderci almeno la rivincita della partita precedente un po' più concentrati di prima sempre sul pezzo e forza Inter possiamo permetterci di fare un'altra figura così nel nostro stadio anche perché dobbiamo cercare di avere un umore abbastanza alto per la partita contro il Bayer Monaco attenzione perché subito De Luffeo la mette in mezzo per Cianoglu Viviano grande parata non mi trattate male Cianoglu Oseco per Griezmann bella palla per De Luffeo ancora Viviano col faccione però la palla si impenna non riusciamo a buttarla dentro ragazzi è incredibile non ci va può dare Felipe Anderson Felipe Anderson davanti a Viviano eccolo il gol dell'Inter Felipe Anderson 1-0 al sessantesimo del secondo tempo ovviamente perché non c'è un sessantesimo del primo tempo a meno che l'arbitro non da 15 minuti di recupero incredibile questa capacità di calcolo che ho comunque che cazzate che le dico qui riguardiamo l'azione di Felipe Anderson se lo perdono e poi col destro dal di lì è molto facile per lui insaccare dove Viviano non può arrivare ci ammazza se è brutto Felipe Anderson 1-0 Inter vede il buco per Griezmann 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 centrale non riesco a fargli far gola al povero Antoine e fischia e fischia niente raga mi sa che questa partita ale questa partita deve finire in pareggio con io che perdo 20 uomini attenzione a Makinok non va il tiro di Gilardino Gilardino alto sopra la traversa attenzione Paco Alcasser c'ha un gran buco per Griezmann con Dogbia adesso Gerard Delufeu Gerard Delufeu arriva Paco Alcasser da dietro Paco Alcasser undicesimo gol per lui in campionato 2-0 Inter al novantesimo grande essere poco Alcasser e lo sappiamo qui grande roba di grande azione di Delufeu che aspetta l'arrivo di qualcuno da dietro è proprio pacchito mamma che legna che ha cacciato 2-0 poco Alcasser e finisce qua siamo ripresi dalla sconfitta contro la Fiorentina non abbiamo giocato benissimo ma ci sta direi che merita Ata perché comunque il Palermo non ha mai tirato in porta migliori in campo De Olufeu con l'assist finale allora ragazzi andiamo a giocare quest'ultima partita di campionato di Serie A già da campioni d'Italia e andiamo a vedere cosa potrebbe cambiare dopo questa ultima giornata allora il Cagliari per esempio è già ampiamente salvo se la gioca Empoli Pescara e la Spezia una delle tre si salva e quindi è una giornata molto importante per il momento l'Empoli è salva però chi lo sa bisogna vedere contro chi ha lo scontro finale mentre dopo dietro di me se la gioca Lazio Juventus per il secondo posto e poi sempre Juventus Roma Genoa direi sì quindi le prime cinque sono tutte cinque in Europa però ci sono ancora degli spazi da definirsi mentre Sassuolo purtroppo non può arrivare neanche in Europa Link quindi ultima giornata molto importante devo dire per molte squadre io dato che andiamo a vedere un attimo il calendario ho cinque giorni e poi la finale di Champions volevo far giocare comunque anche i titolari nel senso che volevo far giocare l'ultima partita a praticamente tutti i miei titolari quindi Lewandowski volevo farli giocare i vari Varane Musacchio Griezmann Filippiano volevo farli giocare un po' per farli assaggiare per l'ultima volta il campo di Serie A volevo far segnare Griezmann perché ha secco di gol quindi secondo me mettere lo C-O-C potrebbe essere una buona idea mettiamo anche Condogbia in campo al posto di Oziakup e così ci siamo scusate ci ho messo un po' però ci sta quindi andiamo a giocarci quest'ultima partita a Cagliari in Sardegna siamo già campioni d'Italia quindi oggi festeggeremo l'alzata della coppa sempre sul pesto ragazzi e anche oggi forza Inter Lewandowski fa andare Yuri Tielemans Yuri Tielemans Lewandowski c'è in mezzo Griezmann che era in fuorigioco aveva pure preso la traversa ma io sono uno stronzone volevo far segnare Antoine Griezmann attenzione ad Ambrosio che la mette in mezzo per Melchiorri non so come abbia colpito ma Nardi attento dopo dieci minuti ragazzi è una partita incredibile un Cagliari che non molla niente fortissimo attenzione Astori colpisce di testa io credo che la palla fosse entrata ma non è entrata calcio d'angolo ancora per il Cagliari che ci sta mettendo in gravissima difficoltà esce bene Nardi vediamo se riusciamo a far ripartire qualcuno un certo Lewandowski vediamo D'Ambrosio tiene anche su su Lewandowski probabilmente no Felipe Anderson cioè dall'altra parte con Dugbia bella palla di Felipe Anderson stoppa male con Dugbia poi la riprende la rimette lì la rimette in mezzo arriva Lewandowski la riprende la rimette la riprende Lewandowski tira malissimo poi avevo scritto il pallonetto con Dugbia fa partire Yuri Tielemans che può metterla in mezzo però c'è Lewandowski Robert Lewandowski 0-1 Inter e segna con il suo marchio di fabbrica il colpo dito ma non è vero il marchio di fabbrica Lewandowski è completissimo però qui gran palla di Tielemans precisa precisa sulla testa e poi Danilo D'Ambrosio se lascia così tanto spazio a Robert Lewandowski ti purga e 1-0 Inter attenzione Felipe Anders con la gioca bene per Lewandowski si Griezmann si Antoine ecco il gol di Griezmann 0-2 Inter gol praticamente fotocopia di quello di prima però dal lato opposto gran palla qui di Lewandowski poi Felipe Anders ha dato una palla magnifica Lewandowski che si è mosso alla grande davvero davvero attaccante facile facile poi Lewandowski di Mancino la mette in mezzo a scavalcare il difensore Griezmann colpisce di testa e anche Antoine Griezmann torna al gol 2-0 Inter no raga si è fatto male a Lewandowski raga si è fatto male a Lewandowski non si alza più no raga no 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 si è fatto male a Lewandowski si è fatto male a Lewandowski io lo cavo qualunque cosa essa sia io lo cavo non c'è non c'è niente ma non mi interessa si è fatto male è per terra che non si rialza si è alzato a Lewa ma insomma li volete spaccare tutti figli di troia sta boh sta boh sta boh sta boh sta boh che mi sono cagato addosso finisce qui il primo tempo 2-0 per noi Lewandowski Griezmann giusto così per dire attenzione a Murru che la mette in mezzo colpo di testa di non so chi fosse ma gran parata di Nardi Filippi Anderson non ci credo guardate che lancio per Longo Longo lo fate a storare mannaggia mannaggia non riesce a piazzarla Longhino madonna quando è stato sgraziato sgraziato fuori tempo tutto 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 Paco Alcacer recupera un gran pallone Luxo Paco Alcacer bella palla per Samuele Longo Samuele Longo c'è in mezzo Paco Alcacer non ci credo cosa abbiamo sbagliato volevo far segnare Paco Alcacer almeno arrivava a 11 gol mi sembra se non sbaglio in campionato 11 o 12 porca miseria 2 minuti di recupero alla fine del match e saremo ufficialmente campioni d'Italia fischia fischia a dire è finita è finita è finita siamo campioni d'Italia per la seconda volta consecutiva andiamo andiamo in festa tutti in festa ed è giusto così cioè siamo stra 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 meritato abbiamo dominato dall'inizio praticamente del campionato è stato diverso dall'anno scorso perché l'anno scorso abbiamo vinto il campionato all'ultima giornata praticamente o alla penultima non mi ricordo mentre questo è stato strameritato veramente abbiamo perso pochissime partite siamo stati sul pezzo davvero davvero quasi sempre peccato per un paio di partite contro la Juventus mi ricordo quella di Juventus dove è stata la prima sconfitta in campionato se non sbaglio perché era venuta dopo dopo la la vendita di Icardi ma qui Musacchio il capitano Musacchio alza la coppa siamo campioni d'Italia per la seconda volta consecutiva ragazzi per la seconda volta consecutiva è ultima purtroppo perché come sapete purtroppo la prossima carriera allenatore purtroppo non continuerò questa carriera allenatore con l'Inter perché voglio iniziarne un'altra nuova però nel cuore nel cuore questi ragazzi veramente guardate sono felicissimo che si siano imposti anche il campionato una squadra una squadra giovane una squadra giovanissima se ci pensate perché ho voluto sì fare un progetto giovani ma di sostanza di potenza di forza di complessa secondo me questa via è una squadra completa una squadra completa perché in difesa siamo quasi invalicabili al centrocampo una diga e in attacco siamo micidiali sulla ripartenza in velocità e questo è il campionato dopo 38 partite noi siamo campioni d'italia con 87 punti 26 partite vinte 9 pareggi 3 sconfitte 67 gol fatti 26 gol subiti e 87 punti noto che non siamo né il miglior attacco né la miglior difesa perché la juventus che chiude no la roma che chiude terza ha fatto 70 gol mentre la lazio che chiude seconda ne ha subiti 25 quindi inter lazio e roma in champions league juventus e genoa il genoa non era il genoa il genoa in europa league resta fuori napoli milan sassuolo eccetera eccetera mentre retrocedono frosinone con 13 punti la spezia con 22 pescara con 23 quindi le ultime posizioni sono rimaste invariate e ce l'abbiamo fatta almeno Cancelanoglu è salito a 82 meritato strameritato non so perché Tielemans non si è riuscito a salire con due allenamenti incredibile veramente no ragazzi cioè in queste cose il gioco veramente dovrebbe migliorare perché io non posso ricevere un commento del genere da Cancelanoglu mister quando ho firmato per questo club mi aveva fatto delle promesse specifiche riguardo al mio ruolo qui ma al momento ritengo che lei non le stia mantenendo cioè non esiste non esiste assolutamente ci siamo prossimo episodio finale di Champions League intera farò vedere tutta tutta la partita contro il Bayern Monaco e cosa vi devo dire ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto se non mi piace il commento consiglio noi ci diamo domenica mattina alle 10 e mezza con la finale di Champions League inter-Bayern Monaco come nel 2010 ovviamente vi invito a non mancare a condividere questo video per far affluire più gente domenica mattina un saluto da mezzo noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti